La lettura di questo romanzo mi ha obbligato a farne un film, sembra una parola un po' forte, ho sentito che era importante parlare di questa cosa perché erano molti gli elementi che era bene raccontare, innanzitutto rispetto all'immagine della Svizzera, paese democratico, grande civiltà, cura, vedere che c'è questa abberrante dimensione di senso, di ordine che poi trasforma la vita delle persone nello sradicare i figli, eccetera, mi ha veramente colpito. E poi allo specchio, ahimè, di discriminazioni che sono ancora uno dei grandi limiti dell'umanità in generale, dell'incapacità, mi viene da dire, di far sì che ci sia una convivenza il più possibile democratica, ma anche di arricchimento. Tutto il materiale sembrava molto personale e anche questa storia mi sembrava molto interessante. È un viaggio di un uomo che ha subito un'ingiustizia molto forte sulla base della propria appartenenza. È la storia di un'ingiustizia, è una storia di ricerca di amore, di un amore di cui tutti abbiamo diritto, e di cui, che tutti desideriamo. per me è una storia dell'identità, dell'Europa, della Svizzera, in un certo senso anche dell'Italia. e sì, siamo tutti in questo lavoro in una confrontazione con una storia che non è la nostra, ma allo stesso tempo facciamo tutti parte della nostra storia. Bene, per quanto riguarda la nostra storia, ma è un uomo che dovrebbe avere un prognolo con l'umago Se potete poterciare ancora più tempo, sperreremo la scuola.